Errore di Ghiglione, occhio a Linetti, possibilità per la Samp, si butta dentro Gabbianini, Gabbianini! 1-0 Samp, incredibile, come cambia la partita al minuto 85, su una sbavatura difensiva nel Genoa, sull'intuizione di Linetti, sul senso del tempo di Gabbianini, che la mette proprio accanto al palo, e la Samp è in vantaggio.